e per l'intercessione anche di Sina Maria Dicassi il nome di Sina Maria Quanti c'è? 30 capi! Quanti c'è con te? Quanti diavoli ci sono con te? 80 capi! 80 capi Dio, quando c'è? Mai! Mai! Quando c'è? In nome di Gesù Dicassi Domini Fingati Dio, qua C'è? Il Signore Gesù Ti ha fissato il giorno d'andartene? No! Non te l'ha fissato ancora? Non te l'ha fissato ancora? No! Sarà lui a fissarlo Perché tu non conti una cicca Ove non conto una... E' la mia! 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 E' di Cristo! 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 Signore, questa tua figliola Liberala da Satana E' dagli altri demoni che la sorventano Siamo eserciti! 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 Niente! Contro di lei Non puoi fare niente! Puoi solo andarsi a nascondere! Eserciti! 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 Grazie a tutti.